Ciao! Come va? Bene, come stai? Bene, bene. Ti è piaciuto questo video? Sì, mi piace il video. Penso che è molto interessante. E tu ti piace il video? Sì, mi piace il video. È molto interessante e importante per vedere una copia LGBTQ quest'anno, come quando tutto il mondo sta camminando, cambiando. Sì. Qual è l'idea per il tuo video? L'idea principale per me è che l'esperienza della copia, Rosalba e Laura, è come loro hanno un'esperienza molto difficile. Qual è l'idea principale per te? Per me l'idea principale è della legge Cinia e il video della copia Laura e Rosalba. e ci sono molte sfide per una copia omosessualità. Anche penso che il video ha mostrato che è molto difficile in Italia, ma la legge creare un'esperienza più facile. che cosa ti ha sorpreso? Ero sorpreso che l'Italia è molto progressivo. e ero sorpreso che le compagnie per di Laura è molto sostenuto e i genitori di Rosalba hanno accettato per la copia. è molto bene per Laura e Rosalba. E tu hai sorpreso? Sì, quando penso che Rosalba era in ospedale e Laura non poteva assistere a Rosalba mi ha sorpreso perché lei non può assistere a Rosalba. non ho capito. Sì, sono di accordo. È molto interessante. Sì. Bene. 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 Ciao. Bene. 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 Bene.